Forse non molti lo sanno, ma oggi si celebra la giornata mondiale del libro, sì perché il leggere contribuisce allo sviluppo dell'umanità, della cultura e anche del sociale. E a Firenze, come in altre città, ci sono delle importanti iniziative che vedono protagoniste anche le liberie cosiddette indipendenti. Siamo in una liberia del centro di Firenze dove si regaleranno ai clienti che compreranno un libro, un iris, il fiore simbolo di Firenze. Una festa, quella del libro, che trae le sue origini dalla Spagna, dove è molto sentita in occasione di San Giordi. Abbiamo preso spunto dalla Catalogna dove c'è l'usanza che i catalani il giorno del 23 di aprile trovano tantissime bancarelle, tantissime librerie dove acquistare libri e rose e comprano e regalano libri e rose. Con altre 12 librerie indipendenti fiorentine con cui stiamo cercando di creare un po' una rete, ci siamo detti perché non facciamo qualcosa di diverso? Regaliamo noi i fiori a chi viene ad acquistare un libro, quindi chi oggi verrà nella mia libreria e nelle altre 12 librerie che hanno deciso di condividere questa iniziativa, riceverà un iris in regalo. Perché l'iris è non la rosa? Perché l'iris è il fiore simbolo di Firenze. Sicuramente queste librerie indipendenti fanno un servizio straordinario sul territorio, come anche i piccoli negozi di vicinanza, perché quando si viene in una libreria generalmente il libraio riesce a captare e a capire anche i gusti del lettore. Queste 13 librerie sono state fantastiche perché hanno aderito lo scorso anno, quasi in autonomia, c'è stato un piccolo appoggio da parte dell'amministrazione comunale, nella quale però ha creduto in questo progetto, tant'è che quest'anno è la seconda edizione e noi speriamo di farne davvero tante ancora perché è un momento davvero importante, in un momento anche così delicato, perché se si pensa al momento che stiamo vivendo, quindi credo che un po' di cultura con la dolcezza di donare un fiore sia importante, ci faccia riapprezzare anche le piccole cose. Grazie.